Una vera e propria miniera d'oro nero sull'asse Campania-Puglia, con interessi per i calabresi, con rilevantissimi profitti per i clan che hanno raggiunto i 30 milioni l'anno. Sono due degli aspetti principali dell'inchiesta su frodi nel commercio dei carburanti, delle direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Lecce, che ha portato in carcere 26 persone, 11 domiciliari, oltre alla notifica di 6 divieti di dimora. Non mancano, come detto, gli interessi dell'Andrangheta. In 14 mesi di inchiesta, carabinieri e guardie di finanza hanno scoperto che ingentissime quantità di carburante per uso agricolo, che gode di agevolazioni fiscali particolari, venivano vendute a soggetti che poi lo immettevano nel normale mercato dell'autotrazione, spesso utilizzando le cosiddette pompe bianche. Carabinieri e guardie di finanza hanno eseguito numerose misure cautelari, nelle province di Cosenza, Salerno, Brescia, Napoli, Caserta e Taranto. Le accuse sono associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, finalizzato alle frodi in materia d'accise e diva sugli oli minerali, intestazione fittizia di beni e società e truffa ai danni dello Stato. L'infiltrazione mafiosa nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero de Rao, è uno degli aspetti più significativi dell'evoluzione dei gruppi criminali. Il procuratore nazionale ha messo in evidenza come questa operazione sia importantissima anche in riferimento al reinvestimento da parte delle organizzazioni criminali come Camorra e Ndrangheta nella commercializzazione degli idrocarburi.